Abbiamo delle scuole energivore che cadono a pezzi e che ospitano soltanto 50 bambini. Chiuderemo tutti i plessi che non servono nel momento in cui costano una fortuna e non rendono un servizio pubblico, liberando risorse per altro. Lo ha annunciato in diretta sui tv il primo cittadino Alessandro Rapinese, una dichiarazione che fa seguito a quella resa dal vice sindaco Nicoletta Roperto, che nei giorni scorsi aveva comunicato l'intenzione dell'amministrazione di chiudere cinque edifici scolastici, un numero che ha detto potrebbe aumentare. Un annuncio che ha suscitato polemiche politiche e preoccupazione tra le famiglie, anche se ancora non sono stati indicati gli edifici a rischio. In questi anni, ha proseguito il sindaco, ho sentito parlare di ristrutturazione delle scuole, di costi, ma non ho mai visto un'amministrazione coraggiosa che potesse prendere il toro per le corna e iniziare finalmente a dare un futuro a Como. Abbiamo 22 plessi soltanto per le scuole primarie e alcuni sono sottoutilizzati perché per ospitare pochi bambini si arrivano a spendere centinaia di migliaia di euro di bollette. Così non va, ha ribadito Rapinese, una persona abituata a fare due conti capisce che è necessario abbandonare i plessi che presentano le condizioni peggiori, sia a livello strutturale che economico, in modo da ottimizzare e andare verso una maggiore efficienza. Il sindaco ha detto di doversi confrontare con gli uffici tecnici del comune di Como, con i consigli di istituto e con la provincia per definire il piano delle eventuali chiusure.